Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi, oggi, ah, finalmente ho ripreso il video tutorial, vabbè Ora, sarà, diciamo, un video di, che, vabbè, durerà due o tre minuti, ma Comunque, oggi siamo qui per un video tutorial su come attivare la virtualizzazione su Bluestacks Allora, molti hanno dei piccoli problemi, ma che piccoli, grandi problemi Se una è un PC da gaming, un bel setup da gaming, tipo il mio Eh, non sto scherzando, eh Scaricano, che ne so, un gioco, ad esempio, COD, oppure Browstarts, oppure altri tipi di giochi Vanno a, che ne so, a giocare, dicono, ma che cazzo E quindi mi lagga, mi lagga, perché mi lagga Cioè, un PC da gaming non può laggare il gioco Eh, e quindi io ho scoperto che bisogna attivare la virtualizzazione La virtualizzazione non si attiva su Bluestacks, ma si attiva su BIOS della scheda madre Allora, se qualcuno ha un BIOS evoluto, mi può seguire Ma se uno ha un BIOS, diciamo, un BIOS ai vecchi tempi del 2000 Lo stesso vi potete seguire Non c'è nessun problema Però sarà diverso Quindi, tra pochi minuti andremo sul BIOS Sì, su BIOS Quindi io dovrò riprendere per forza dal telefono Riprendere lo schermo Quindi, più che tra pochi minuti Tra 5, 4, 3, 2, 1, è via! Ok, ragazzi, adesso sto per spegnere il PC Quindi, adesso è il sistema Quindi lo arresto Bene, una volta spento Lo possiamo accendere di nuovo Ok, quello che dobbiamo fare Premere F2 GUNCH Quindi adesso lo premo Un attimo Scusatevi per la... E come ho puntato il telefono Allora, lo premo di nuovo Allora, F2 GUNCH Eccoci qui F2 GUNCH Ragazzi, siamo sul BIOS della mia scheda madre La BI450 Gaming Plus Bla 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 Allora Io, ragazzi, non sto scherzando Su quello che sto per fare Perché è tutto vero Quindi Allora Quello che noi dobbiamo fare È andare su avanzate Avanzate Mi ricordo Settings Avanzate qui Ragazzi, mi ricordo tanto Ma so che è una di queste parti Aspettate un attimo Allora Un po' più in giù Ragazzi, secondo me l'ho trovato Ecco, l'ho trovato L'ho trovato C'è più No Un po' indietro No, anzi Più indietro C'è più Della F2 Ecco Ragazzi, l'ho trovato L'ho trovato Allora SVM Mod Qui a voi Sicuramente Sarà disabilitato Quindi Abilitatelo Facendo Così Disabilitato Scusate, non si vede tanto Disabilitato Abilitatelo E tutto il resto Allora Una volta fatto Premete Dov'è F10 E Salva la configurazione Ed esci Quindi Yes Tutto il resto E poi uscite Eccoci qua Bene ragazzi Abbiamo fatto Ora Non ci basta che avviare Bluestacks Cioè sinceramente Quelli che hanno detto Su YouTube Di scaricare la versione Compatibile con Bluestacks Non ha senso Cioè Dicono solo Cazzate Quindi Ascoltate me Perché io la virtualizzazione L'ho attivata Ieri Sì Ieri l'ho attivata E non Avete L'idea Di quando Quanto sia Contento Cioè Assai proprio Assai Quindi Signori Guardate Ora Abbiamo un gioco Abbiamo un gioco Che Mi largava a morte No Brawl Stars Ma LDOE Ragazzi LDOE Survival L'ho Adoro Una volta L'ho adoro L'ho adoro Una volta Ok Conniti Conniti Ok Allora Vediamo Se va Bello Bello Fluido Aspettiamo Il caricamento Caricamento In corso Va bene Bene Allora Abbiamo finito Il caricamento È pronto Ora Entro Mi faccio Una bella Ghiacchierata Con il mio Amico Dynamic DK Eccolo Guardate Ragazzi Quando è Fluido Guardate Uè Chi è Non è DK Pensavo Che era Lui Salve Questo è Il mio Membro Ah vabbè La connessione Facciamo cosa La connessione Ragazzi Mi va Fluidissimo Possiamo Provare Anche Con Un Code Brostars Proviamo Con Code No Poi Dopo Devo Avviare La partita E giocare Poi Devo Annullare No Vabbè La Mi va Una Vera Bomba Ragazzi Allora Adesso Vi spiego Una Cosa La virtualizzazione Ce l'abbiamo Ma se non avete Un pc da gaming Abbastanza buono Da reggere Bluestacks Potete anche Arrangiare Perché Poi vi lagheranno I giochi Di sicuro Per colpa Del vostro Sistema Quindi Non date La colpa Al programma No Non dovete dare Colpa Nessuna colpa Al programma Perché Io La virtualizzazione Vi ho fatto Vedere Come Attivarla Quindi Poi Sono Cavoli Vostri Se volete Giocare Su pc A giochi Android Va bene Ma Se volete Proprio Giocare Con Ottime Prestazioni Allora Fatevi un pc Da gaming Oppure un pc Con Ultime Prestazioni Quindi Detto questo Lasciate like Iscriviti al canale Commenta Fai quello che vuoi Dimmi anche Fammi anche sapere Se ti è andato Perché Noi Non abbiamo Ancora finito Perché Noi ci vedremo La prossima Settimana Quindi Ciao a tutti